15 anni di eccellenza rischiano di essere vanificati nel giro di pochi mesi. L'ospedale Valdese, infatti, è prossimo alla chiusura, insieme ad altre 11 strutture, secondo quanto previsto dal nuovo piano sanitario regionale. Al dramma di dipendenti e medici che dovranno trovarsi un nuovo posto di lavoro, si aggiunge quello dei pazienti, più silenzioso e non amplificato da microfono e telecamere. 4.000 i ricoveri ogni anno in oncologia, 20.000 le mammografie, 400 gli interventi per il tumore al seno, numeri di eccellenza che gettano ancora più dubbi sui motivi che spingono l'ospedale verso la chiusura. Guardi, io sinceramente non riesco a spiegarmi perché si debba chiudere l'ospedale Valdese, non riesco a capirne le ragioni. Presso l'ospedale Valdese si eseguono interventi il cui costo è dimostrato inferiore che in altri centri. Il periodo di degenza medio per un intervento alla mammella è di 1,7 giorni contro una media regionale di 2,4. Questo fa sì che, gioco forza, si ragioni da un punto di vista di economicità. Non riesco a spiegarmelo. Per scongiurare l'emergenza e le richiedute negative sui pazienti, CGL, CISL e UIL chiedono chiarimenti, garanzie e un futuro meno incerto alle istituzioni. Preoccupa che il piano regionale sanitario non applichi tagli secondo la logica del miglioramento del servizio, ma sulla base di appartenenze politiche. Con operazioni subdole, quindi coperte, stanno destrutturando e svuotando il sistema sanitario per giustificare poi che non ci sono né le risorse né i numeri per proseguire con un sistema sanitario pubblico e quindi aprire l'accesso al sistema privato, al sistema assicurativo. Già oggi il Valdese non accetta più prenotazioni per le visite e non vengono nemmeno più indicate ai pazienti le strutture alle quali rivolgersi. Anche i contratti degli specialisti in scadenza a dicembre non saranno rinnovati. Sono 7.600 le firme già raccolte per dire no alla chiusura dell'ospedale. Sabato scorso le donne sono scese in piazza a seno nudo per protestare e stando a quanto annunciato le manifestazioni non finiranno qui.